L'app mobile di Smartsheet consente di accedere in tempo reale a tutti i tuoi contenuti Smartsheet usando un dispositivo mobile, in modo da aumentare al massimo la produttività fuori dall'ufficio. Vediamo come iniziare a usare l'app mobile di Smartsheet. Nella scheda Home, troverai le opzioni recenti e preferiti. In Recenti puoi trovare rapidamente gli elementi visitati e messi in evidenza di recente. Puoi aggiungere fogli, report e dashboard importanti a preferiti. Nella scheda Sfoglia puoi visualizzare tutti i workspace, le cartelle e gli elementi di tua proprietà o condivisi. In alternativa, utilizza la barra di ricerca per trovare facilmente ciò che ti serve. La scheda delle notifiche consente di recuperare notifiche, aggiornamenti e richieste. Per creare un nuovo foglio, puoi partire da zero o scegliere uno dei nostri modelli da modificare. Aggiungi o aggiorna le informazioni o utilizza un dispositivo mobile per acquisire codici a barre, posizioni e foto da qualsiasi luogo e aggiungerli in Smartsheet. Nel menu del foglio puoi accedere ad altre opzioni, come ad esempio ordinamento, allegati, conversazioni e, soprattutto, modifica delle visualizzazioni. Sono disponibili sei visualizzazioni del foglio, griglia, Gantt, cartellino, calendario, elenco e mobile. Una visualizzazione ottimizzata per i dispositivi mobili. Quando cambi le visualizzazioni, i dati vengono aggiornati dinamicamente, in modo da lavorare nel modo più adatto a te. Quando il foglio è pronto, puoi condividerlo con il team per iniziare a collaborare. Ecco come iniziare a utilizzare l'applicazione mobile di Smartsheet. Per saperne di più, consulta il nostro centro di apprendimento. Grazie.